Non siamo Vobbis Gaudium Magnum, il mausoleo dei chiatto perdi non c'è più. Oggi, primo febbraio, possiamo dare questo annuncio. Però, Alfredo, tu sei stato consigliere comunale insieme ai chiatto parti. E' nata volta con questi chiatto parti. Allora, io devo dire una cosa. Quando tu eri consigliere comunale, mi ricordo che i bagni pubblici funzionavano. Adesso i bagni pubblici ce ne so più. Però, poi detto questo, io devo dire che la tua azione attuale mi sembra più efficace di quando eri consigliere comunale. Ma come mai? Sarà che noi ci occupiamo dei problemi spiccioli, quelli populisti, mentre lasciamo ad altri i discorsi sulle aggregazioni, sulle unioni. Che dici? Allora, io ti dico che le cose le abbiamo fatte, non solo che erano doverose. Adesso questo, io non so, è consigliere comunale. Quindi, in questo momento, sembra chissà che cosa ho fatto. Io non ho fatto niente. Abbiamo fatto sistema. Tu, tre mesi fa, mi hai portato qui e mi hai portato a conoscenza di questo cosiddetto mausoleo. Io ho chiamato di dovere dell'Enel, che devo ringraziare perché il lavoro l'ha fatto lui, è stato di parola. E ringraziamo i cittadini di questa zona che hanno tolto proprio tutto quanto perché non era più di pertinenza dell'Enel. E ha tolto non solo i contrattori, ha tolto pure quel bastone che stava in mezzo che ti sentiva a te come albopretorio. È l'albopretorio. Beh, però, ecco, adesso c'è il problema dell'albopretorio. Però, insomma, ecco qua, insomma, oltre a Monnessa ci si può attaccare pure le lamentele qui della cittadinanza in generale. Ma io dico una cosa, no, premesso che qua a Petterra c'è pure la piattaforma, no? Ma non era meglio come si usava una volta con i cassonetti? Magari recintati, una cosetta fatta bene, con quella falsa, con quell'edera di plastica, che vedere ecco se scena è così. Io non lo so. Comunque fammi dire che sono soddisfatto di questa piccola cosa. che non è farina del sacco mio, perché non è che è un operatore. Io ho soltanto avvisato, ho chiesto a una persona che è stata molto sensibile, mi ha sentito, e dopo tre mesi siamo riusciti ad andare a danno. Quando tu mi dicesti che erano 15 anni che stava così, meno male. Da quando hanno fatto queste costruzioni attacchiate al fosso di scolo, che va a capire com'è possibile, comunque. Io non so, geologo o geometra. Senti un po' una cosa, però, ecco ti voglio fare un'altra domanda che riguarda l'epoca dei gattopardi. Grazie. 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 Grazie.